Alle 23 avviene il primo intervento della Polizia di Stato, nel senso che vengono avvisati che è scoppiato un incendio, quindi interviene la Polizia di Stato. Subito dopo arrivano anche i carabinieri, si accorgono immediatamente che è scoppiato un incendio che parte dai locali del pronto soccorso che è al piano terra dell'ospedale. Ovviamente avvisavano immediatamente i vigili del fuoco e abbiamo verificato, per dirvi che lo Stato funziona, alle 23 arriva la Polizia di Stato, alle 23.01, ho visto il telefono del comandante, arriva la telefonata al comandante personalmente, dopo 10-12 minuti arriva la prima squadra dei vigili del fuoco. Quindi l'intervento è stato immediato, ci tengo a dirlo perché è veramente con orgoglio che ve lo rappresento questo intervento immediato. Immediatamente i vigili del fuoco iniziano a spegnere l'ingendio e già in quel momento si stavano mettendo in sicurezza i vari degenti dell'ospedale, perché parliamo dell'ospedale di Tivoli, un ospedale molto importante del territorio, una città che è ovviamente ferita in questo momento in maniera consistente. Già in quel momento iniziano a spostare i malati per portarli in sicurezza. Le fiamme erano localizzate in un certo punto, ma ovviamente il fumo andava in tutti i reparti, anche ai piani superiori. Si avviano queste operazioni di soccorso con grande fatica, anche perché molti dei ricoverati non potevano camminare da soli, non erano di ambulanti, c'era chi stava in terapia intensiva e altro. Intanto intervenirono vari equipaggi dei vigili del fuoco, ne abbiamo visti veramente numerosi, oltre 60 credo siano i vigili del fuoco intervenuti. Quindi come dire, un numero, polizie e carabinieri hanno sul posto e coadiuvavano il personale medico per mettere in salvo i pazienti e mano a mano si spegnevano le fiamme. Il fumo intanto continuava ad andare. Immaginate questo tentativo di salvare, che è andato bene, vari pazienti col fumo che era in tutte le stanze, in tutti i reparti. Erano stati allertati gli equipaggi del 118 che mano a mano portavano via i pazienti nei vari ospedali cittadini, quindi venivano raggruppati in un posto d'emergenza sempre presso l'ospedale e poi subito venivano portati ai vari ospedali della provincia e sono stati evacuate complessivamente 193 pazienti. Quindi l'unico numero certo è questo. Se mi hanno dato altri numeri, hanno dato i numeri nel vero senso della parola. I deceduti purtroppo sono quattro, quindi queste sono le informazioni ufficiali. Vi posso dire, non vi do i nomi per rispetto ovviamente, ma sono stati avvisati già tutti i parenti delle vittime. Voi li avete già probabilmente i nomi, ma io per questioni di rispetto nei loro confronti non ve li do. Una persona in particolare, la Salma già è stata messa a disposizione dei familiari. Questo vuol dire che non è di interesse della Procura della Repubblica, perché la Procura interviene ovviamente se ci sono reati. Il Pubblico Ministero è stato avvisato insieme al Comandante, quindi alle 23. Il Pubblico Ministero di turno ha immediatamente preso la direzione delle indagini, anche questo ci tengo a dirlo, dando tutte le indicazioni a Polizia e Carabinieri di ciò che devono fare. È stato fatto anche un sopralluogo, ovviamente. So che l'avete anche visto, abbiamo cercato di farlo in condizioni di riservatezza. Dicevo, i deceduti sono quattro. Uno non è di interesse della Procura della Repubblica perché non è morto a causa astrattamente dell'incendio. Quindi, come dire, non interessa alla Procura della Repubblica. Altre tre persone invece, le salme non sono state messe a disposizione dei familiari e lunedì sarà disposta l'autopsia. Per ragioni tecniche non la possiamo disporre oggi pomeriggio perché l'obiettivo è restituire le salme quanto prima possibile ai familiari. Già è stato nominato ovviamente il medico legale e il tossicologo che dovranno... Tossicologo, capite, è la ragione per cui è stato nominato, che lunedì riceveranno l'incarico. Delle tre persone che sono decedute e su cui ovviamente dobbiamo fare accertamenti, dopo ne parliamo, uno è della medicina d'urgenza e due sono della medicina generale. Questo per dirvi i reparti da cui sono spostati. Non vi posso dire altro. Il Pubblico Ministero, perché procediamo ovviamente come Procura della Repubblica? Il Pubblico Ministero dal primo momento ha preso la direzione delle indagini. In tutti questi casi viene iscritto un fascicolo nell'immediatezza a carico di ignoti perché ovviamente non possiamo sapere in questo momento le responsabilità possibili, possibili, perché ci possono essere come non ci possono essere le responsabilità. Un fascicolo nei confronti di ignoti per omicidio colposo e per incendio colposo. 589, credo 449, semmai mi controlla il reato di ignoti colposo, scusate, ma è il collega che sta svolgendo le indagini e mi ha dato queste indicazioni. Quindi procediamo per questi reati. Che cosa ha fatto il Pubblico Ministero insieme all'aiuto della Polizia Giudiziaria? Poi darò la parola a chi è intervenuto. Ovviamente sono state messe sotto sequestro tutte le aree di interesse per le indagini. È fondamentale nella prima parte mettere in sicurezza, diciamo noi ai fini investigativi, tutto ciò che ci può interessare, anche con una certa larghezza. Quindi il piazzale nel quale è scoppiato l'incendio e tutti i locali vicini dove si sono estese immediatamente le indagini. Non è sotto sequestro, ovviamente, e altri locali adiacenti. La restante parte dell'edificio non è sotto sequestro, ovviamente non è agibile, perché c'è ancora il fumo in questo momento. Mano a mano saranno i vigili del fugo a stabilire quando possono essere restituiti al direttore sanitario, ovviamente. E poi riterrà, ovviamente, non credo che sia agibile in tempi brevi l'ospedale, ma di questo ne parleranno altri soggetti. Abbiamo disposto il sequestro, sono state delegate una serie di attività investigative, quindi in questo momento sono in corso. Le indagini sono state delegate al comando provinciale dei vigili del fuoco col supporto, ce lo dirà se vorrà, il comandante, anche del livello centrale. Sono state delegate alla Polizia di Stato, che le segue direttamente, essendo il primo comando intervenuto. Ovviamente anche i carabinieri fanno la loro parte, come sempre, in questo campo. Che altro dirvi? Che ovviamente procederemo molto velocemente, perché la città è ferita. I tempi della giustizia non sono i tempi della stampa e non sono i tempi delle ipotesi che fate voi. Noi ovviamente abbiamo un quadro abbastanza, direi, accettabile, non voglio dire, di ciò che può essere accaduto, ma abbiamo bisogno di approfondirlo, perché le ipotesi iniziali vanno supportate da fatti concreti e in questo ci aiuteranno ovviamente le forze di Polizia. Quindi ci sono delle ipotesi investigative che stiamo approfondendo. I tempi, era il 449 colposo, 423 doloso. Ok, no, 449, quindi i reati che sono iscritti in questo momento, 589 e 449, quindi omicidio colposo plurimo, perché nei confronti per la morte di tre persone, e l'incendio colposo, perché non abbiamo elementi per ritenere che ci sia un incendio doloso, cioè voluto da qualcuno. Ecco questo per dirlo con estrema chiarezza. Grazie a tutti.